Ciao, benvenuta e benvenuta alla lezione di solo 20 minuti e voglio sciogliere le spalle. Quando fare questa attività, questo tipo di lezione? A se stante, se senti rigidità nelle spalle, quando hai, ma non è la giornata magari per fare tanta attività fisica, però vuoi comunque fare qualcosa, oppure prima anche come riscaldamento di una lezione più specifica per rinforzare per esempio le braccia, gli arti superiori, tipo anche quando si fa il plank, quindi diverse applicazioni di questi 20 minuti, anche solo se stanti per sciogliere bene le articolazioni delle spalle. Un sorso d'acqua prima di iniziare, preparati sempre un po' di liquidi e poi iniziamo da in piedi e poi qualche esercizio dalla quadrupedia. Siamo in piedi, piedi leggermente separati, spalle rilassate, colonna allungata, diamo un attimino di ascolto generale alla postura, ok? La nostra colonna si allunga, pensate alle due estremità cocci genuca, come se venissero tirate in due sensi opposti ovviamente. E adesso portiamo l'attenzione proprio alle nostre scapole, anche alle nostre scapole, perché pensate, ci sono in quest'area un po' di articolazioni, cinque, di cui non tutte vere, nel senso alcuni sono piani di scorrimento, però è veramente incasinata la spalla, attenzione che ha tante articolazioni da sciogliere. Cominciamo innanzitutto con un semplicissimo movimento che potete fare proprio anche come il prezzemolo durante il giorno, sciogliere con delle circonduzioni non troppo grandi e testate, al di là del fatto che è già esercizio di per sé, ma vuole anche essere un po' un test di come sentiamo in dinamica le nostre spalle. Andiamo un po' anche nell'altro senso, nel frattempo mi ossigeno per bene, vi dicevo le articolazioni nel moncone della spalla abbiamo la testa dell'omero nella cavità della scapola, la cosiddetta glenomerale, poi un'articolazione qui fra la clavicola, la clavicola, lo sterno e la prima costa che in realtà, adesso ripetiamo, con un'ampiezza maggiore questa circonduzione, non è prettamente vicinissima e nella spalla, però assolutamente i movimenti della sterno claveare sono assolutamente connessi in generale al moncone della spalla. Poi c'è anche una terribile articolazione qui sopra, cambia intanto il giro, tra la clavicola e la scapola qui sopra, è piatta, sono solo dei piccoli movimenti e ahimè questa volta si fa proprio sentire in caso di problematiche al muscolo che passa qui sopra, il sovraspinoso che spesso ci dà problemi. Poi due finte articolazioni, intanto mi metti le mani sulle spalle e continuiamo con i gomiti a fare le circonduzioni. Poi due finte articolazioni chiamate la scapola toracica dietro, che è la scapola che scivola lungo il piano posteriore del costole e la sub-deltoidea, anch'essa molto bastarda, cambia in giro, ovvero qui mi avvicino proprio, praticamente c'è un legamento importante che ci unisce la spalla qui in alto, che forma un'arcata, una volta un'arcata sotto a cui scorre una borsa sub-deltoidea. Quindi è in realtà uno spazio che va spesso purtroppo ad infiammarsi, intanto cambia, fanno i movimenti ampi con le braccia, ad infiammarsi si ha veramente fastidio proprio nella parte superiore delle spalle. Se durante questi movimenti sentite fastidi o dolori che si irradiano, mi raccomando, fermatevi o diminuite l'ampiezza dei movimenti. Ok, fatto questo, in realtà è tutto molto connesso, quindi non possiamo non sciogliere la cervicale con dei movimenti rotazionali da destra a sinistra, tenete le spalle ferme, ok? Nel frattempo vi ossigenate, allungatevi bene con la colonna, manteniamo un ritmo, come vedi sempre, non è lentissimo, ma non è neanche a razzo, è un movimento diciamo fluido e continuo, che ti porta fino all'estremità articolare, cellule al massimo range articolare, dove percepisci il fine corsa, ma senza dolore. Ok, fatto questo, andiamo ad agire proprio sull'insieme di tutte le articolazioni che sono molto sommariamente, vi ho raccontato, ho descritto prima, partiamo con il sollevamento delle spalle e giù. Qui andiamo a lavorare soprattutto, sentite anche le clavicole un pochino si sollevano e poi soprattutto la scapola toracica dietro, come senti? La scapola scivola in alto, scivola in basso, scivola in alto, scivola in basso, scivola in alto, scivola in basso, ancora uno, bene. Proiettiamo in avanti le braccia, non devono essere troppo alte, vedi qua c'è la spalla, la mano è un filino più sotto, appena appena. Il nostro focus saranno sempre le scapole, perché dobbiamo pensare di creare spazio fra le scapole e chiudere come se tenessimo una nocciolina dietro. I gomiti sono morbidi, non stecchiti, ma neanche piegati, flessi così, ok? Inspiro, creo lo spazio fra le scapole e spiro lo chiudo. Attenzione che non si deve trasformare in faccio la gobba e in arco la schiena. Pensate che la schiena in tutto ciò non venga sollecitata, le vertebre non si muovono. Hai la percezione di inarcarti o di ingobbirti perché muovi proprio le scapole attorno e sul piano costale, posteriore o dorsale. Ancora uno, tenendo le spalle comunque ben abbassate e quindi sciolgo. Se senti un po' di fastidio ai muscoli anche che arrivano al collo, riprendimi le rotazioni del capo a destra e a sinistra per sciogliere un pochino. Ora terremo le braccia fuori, come vedi la mano è sotto il livello della spalla, quindi non qui, neanche qui, un po' più giù. Allontana le scapole, questo è difficile da percepire, ma è più facile percepire la chiusura dietro. Quindi pensate di creare nuovamente spazio fra le scapole e di chiudere dietro come a reggere una nocciolina. Attenzione che viene anche l'errore di sollevarle. Quindi apro, chiudo, inspiro, apro, fuori l'aria chiudo, inspiro, apro, fuori chiudo. Se senti fastidio qui è perché stai sollevando le spalle, stai usando in maniera errata trapezio e elevatore della scapola. Quindi comunque le tue scapole si devono solo muovere sul piano diciamo orizzontale, è questo che in realtà è il piano frontale, deve eseguire un movimento andando verso l'esterno e verso l'interno. E voilà, di nuovo sciolgo, posso sciogliere le braccia pensando di avere dell'acqua da togliere dalle dita delle mani e quindi vado ancora una volta a sciogliere il collo a destra e a sinistra con delle rotazioni. Molto bene. A questo punto faccio le braccia rigide anche proprio fino alle mani a paletta e vado bene in intra rotazione con le braccia e in extra rotazione. Attenzione che il movimento non riguarda la schiena né in un senso né nell'altro, è proprio tipo cacciavite. Il movimento origina proprio dalla glenomerale. Questo è molto importante proprio per la glenomerale, la testa dell'omero dentro la cavità articolare delle scapole. Le altre tutto sommato articolazioni nominate restano più silenti, più ferme diciamo. Qui è proprio un'intra ed extra rotazione molto importante proprio per la salute delle nostre spalle. E levo pian piano anche le braccia, le abduco, le stacco dalle linee, dal corpo in sostanza senza arrivare ai 90 gradi. Mi fermo un poco prima e torno a scendere. Molto bene. Voilà. Ora tocchiamo. Con una mano, con la mano destra tocco la spalla sinistra e dietro invece con la mano sinistra tocco la scapola destra. Apro, tocco, apro. Qui è immancabile il mio schiocco. Ok? Alterno le due cose. Avanti e dietro. Con un'oscillazione intermedia delle braccia. Non fatemele andare troppo in alto. Tengo ad occhio l'ora per rispettare i tempi, altrimenti poi sapete che io mi dilungo. In tutto ciò lascia le scapole abbassate e il collo lungo. Ok? Fantastico. Ora, da questa posizione, prova a toccare le mani dietro alla schiena in area scapolare e apro. Ok? Avvicino. Non è detto che riusciate a toccare. L'unica cosa che vi chiedo, vi faccio vedere di profilo, l'errore probabile che per forza di cose voglio toccare in arco. No. Dove arrivo? Arrivo. Apro. Cambio. Apro. Cambio. Apro. Cambio. Apro. Cambio. Apro. Cambio. Cambio. Giù. Scrolla l'acqua dalle mani, ogni tanto fai questo movimento, tieni le spalle abbassate, fammi una rotazione del capo a destra e una rotazione del capo a sinistra per togliere eventuali contratture percepibili anche dell'elevatore, della parte alta del trapezio, in sostanza qui lo potresti sentire, e quindi, come sai, questa rotazione lo facciamo tante volte anche, ti ricordi, no? da terra, dal matwork, sia per la lombare, sia per la cervicale, delle rotazioni che vanno un po' a mitigare eventuali errori raccolti per strada. Molto bene. A questo punto, prepari le braccia flesse ai lati del corpo. Immagina di dover reggere, basta anche immaginarlo, se vuoi prendere due foglietti li puoi tranquillamente mettere, due foglietti da reggere qui proprio, fra l'interno del braccio e l'esterno del costato, che è assolutamente di facile percezione, giusto? I gomiti sono molto vicini al corpo, però non cercare di fare questo, di appoggiare i gomiti sui fianchi, eh? Lo dico perché vedo spesso impostare questa cosa, no? Schiena diritta innanzitutto, spalla abbassate e tengo i due foglietti, eh? Qui tra l'interno del braccio e il costato. Vedi che però c'è un po' di distanza, c'è qui, no? Tra gomito e corpo. A questo punto tengo i gomiti, i pollici in autostop, per i pollici devono sempre guardare in alto, i polsi sempre in linea, quindi non devo spezzare la linea del polso, e apro, chiudo. Intanto, continua, fai questo movimento con me, nel frattempo ti racconto un po' di cose. Allora, uno, spalle spinte bene in basso, lo puoi fare anche pensando di spingere sempre in giù i gomiti, facendo attenzione ai foglietti da non perdere, eh? Quelli che abbiamo fintamente preparato prima, ok? Lascio i pollici in autostop, come ti dicevo, i polsi allineati, è una pura extra rotazione, è proprio della glenomerale, un po' più difficile di quella di prima, però così non è solo mobilità, ma è anche un po' di rinforzo per gli extra rotatori, male non ci fa. Molto bene. Attenzione, intanto, continua a non sommare l'errore di muovere la schiena, in tutto ciò la schiena rimane ferma, le vertebre non si muovono, piuttosto riduco l'ampiezza del movimento, se per fare e percepire il movimento in acqua tanto, no, prioritario la schiena, ferma, le scapole abbassate e ferme, ed eseguo questo movimento. Posso fare, inspiro quando apro e fuori quando torno, spingi in giù i gomiti, lasciali vicini al corpo, i due omeri come vedi restano il più possibile fermi qua, eh, non devono abdurre allontanarsi dal corpo, ne facciamo ancora due, monitoro il tempo, altrimenti vado troppo lunga, e scioglio. Muy bien. Scrolla un pochino le spalle, proprio fai spalluccia, fai spalluccia, molto bene. A questo punto braccia lungo i fianchi, così, senti proprio, lo chiamano proprio anche apparato appendicolare, deve essere proprio il braccio, eh, sospeso, senti che è sospeso proprio, e facciamo, anche se mi avvicino non vedrai granché, non ci provo, ma tanto non si deve veramente percepire, tu pensa proprio alla testa dell'omero, nella scapola, e fare proprio appena appena un massaggio articolare, che tradotto in esercizio è una micro, micro circonduzione, appena visibilmente percepibile, ce la devi appena appena vedere, ok? Adesso, ancora meno proprio, eccolo qua, piccinin piccinin, ok? Nel frattempo ti allunghi bene in alto con la schiena, mantieni una buona postura, questo piacevole movimento, non so se è giunta anche a te, questa sensazione di calore alle dita delle mani, questo testimone è proprio la vascularizzazione che avviene, con movimenti anche molto piccolini come questi, eh? mi ossigeno, mi allungo, distendo bene la mia colonna, mi impegno a mantenere una buona postura, faccio un pochino anche l'altro giro, piccolino piccolino, se senti fastidio all'area del collo vuol dire che lo stai facendo troppo grande, o stai elevando le scapole, che invece devono rimanere ferme, in caso metti a posto schiena, scapole e riduci l'ampiezza del micro movimento che stiamo facendo, voilà, a questo punto di nuovo scrollo l'acqua dalle dita delle mani e faccio proprio spalluccia, 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 uno, due, tre, quattro, cinque, sette, sette, otto, nove, dieci, spalle abbassate, sciogli il collo con una rotazione a destra, una rotazione a sinistra, molto bene, e ci fermiamo, giriamo i palmi delle mani in avanti e portiamo le braccia avanti, le incrocio, le incrocio, le apro, le incrocio, come vedi le braccia, le mani viaggiano sotto il livello delle spalle, ok? Incrocio, incrocio, apro, 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 cambio piano di lavoro, sto morbida sulle ginocchia e faccio una flessione, un'estensione, quasi un'oscillazione che porterà il braccio stesso e la spalla a fare un ampio movimento articolare. Ottimo. E ci fermiamo, fantastico, a questo punto eleviamo entrambe le braccia in alto, e prima da un lato e poi dall'altra, pensa proprio di elevare la scapola e poi l'altra, focus proprio sulla spalla, il moncone della spalla che si eleva, un po' come se qualcuno dall'alto ci prendesse la mano, il polso e ci tirasse in su, molto bene, ancora uno, e giù. Fantastico. Andiamo ad abbracciarci, pensate con le mani incrociate, con le braccia incrociate, di andare a prendere proprio il margine delle scapole, di abdurre proprio, di allontanare, facilitare questo allontanamento delle scapole, andiamo a scioglierci un pochino anche nell'area toracica, facendo dei piccoli cerchi, morbide nelle spalle, slasciatele giù bene, il collo resta lungo, dall'altra parte. Molto bene. Cambio l'accavallamento delle braccia, vai di qua. Dall'altra parte il cerchio. Voilà. E di nuovo sciolgo. A questo punto ci mettiamo in quadrupedia, con le mani sotto alla linea delle spalle, ginocchia larghe per comodità e stabilità, metti la schiena a table, bella allineata, allungata, puoi stare anche, vedi, con i glutei appena dietro, rispetto alle ginocchia per appena, non tenermi molle la schiena, ma a table. Braccia con le mani appena, appena più avanti della linea delle spalle, quindi braccia non perfettamente sulla verticale. Ti ricordi gli esercizi fatti all'inizio? In realtà anche se sembra tanto diverso, è solo che siamo in quadrupedia, sarà lo stesso. Chiudi le scapole dietro la schiena, necessariamente il busto scende, lo sterno è l'impressione che si avvicini, anche senza impressione, si avvicina il suolo fra le mani, respingendo il suolo dai palmi delle mani, allontano le scapole l'una dall'altra, vado giù e vado su. Come da prima, non devi percepire movimenti a livello delle vertebre, per intendersi, non è che mollo in arco e non è che faccio la gobba. Schiena ferma sono le scapole che scivolano sulla superficie dorsale. Ancora due. Molto bene. A questo punto ci sediamo con i glutei sui talloni e vai proprio con le mani a cercare lo spazio il più in avanti possibile e distenderle bene. Tirati bene. Lascia la fronte giù. Scarica il peso della testa. Quando ti sei allungato abbastanza, rientra con le mani. Più che altro sta scadendo il tempo. Se siete precisi e vi servono proprio venti minuti, la lezione sta terminando. Quindi, rialzati con attenzione. Ti faccio rivedere, anche se dovresti già conoscere questa progressione. Lasciando la fronte a terra, fai rientrare le braccia e con la forza delle braccia ti sollevi lentamente. Agisci piano sul ritorno perché stiamo lavorando insomma sulla schiena e quindi lasciamo sempre il tempo alle nostre vertebre, ai nostri dischi di ritornare nelle loro posizioni. Molto bene. Vi lascio andare fra pochissimo. Voglio solo testare un pochino la mobilità della spalla con dei movimenti appunto conclusivi di circonduzione. Probabilmente rispetto a prima ti senti più in scioltezza. Fallo pure anche con i gomiti. Rispetto a prima dovresti avere una percezione di maggior ampiezza di movimento. Testiamo anche a braccia distese. Poi veramente ti lascio andare. Io farò un po' di idratazione ma tu puoi scappare se sei di fretta. Molto bene. Ottimo lavoro. Allora eccoci qua per i saluti finali. Ti ricordo bevendo che questo tipo di lezione può essere fatta a se stante proprio per agire sulla sulle spalle rigide ok oppure anche in preparazione di una lezione dedicata agli arti alle braccia agli arti superiori oppure in generale poniamo che le spalle oggi le senti rigide però poi farai pilates o farai qualche altro esercizio ti in parte ti riscaldi un po' in generale e nella fattispecie nell'articolazione che oggi magari è un pochino più un pochino più rigida detto questo ti saluto mi raccomando bevi tanta acqua e tante tisane e ci vediamo presto per la prossima lezione ciao ciao